Bene ragazzi qui è da Pescriber, ritornati nel mio canale, bentornati, sono io in un nuovissimo video Oggi siamo qua con il primo video su The Division 2 Allora ragazzi, a me piace tantissimo questo videogame, vi dico la verità Sto pensando di farmarmi bene, di finire la storia per poi presentarvi la Dark Zone Soprattutto in live su Twitch che secondo me è bellissimo da vedere Fatemi sapere con un bel mi piace, un bel commento che cosa ne pensate Vi aspetto a fine video che vi devo dire un'altra cosa ragazzi, mi raccomando Questa è un estratto live semplicemente fatto con Janko ieri sera Quindi mi sono divertito molto, fatemi sapere anche voi Un bacione e ci vediamo a fine video Dove sei Janky? Qui su nella barraca qua Ma tu sei sto qua? Ma sei un bruttone Ma che sta? Ah lesbica Oh che cazzo vuoi? Cazzo ma ti sei visto? Ma torna a giocare con le pietre Allora, ispezione dei rifugio di downtown Qua, ok andiamo Janko Andiamo a spaccare un po' gli orifizi Andiamo Janko, sei cattivissimi Un cane No Dov'è? È una volpe Entrata qua Cazzo ti sei messo Non ti sei messo a ripararti da una volpe Fammi capire Janko c'è gente cattiva qua Ma aspetti Però va ma easy Le mazzo subito questi Tipo i bulletti del quartiere Vecchio il pompo è troppo forte sto videogame Non è un pompa Che cosa? Sì che è un pompa il mio Non è un pompa Guarda È un po' lì sì Eh allora, perla No, no, è un po' lì sì Se no, stai sparando con uno Non so mica semmo È che non so cos'è un pompa Vieni di qua, valla Ah ma stanno orlando come dei bastardi È un bottone Janko Ah Ah Ma che cazzo è? L'imboscata degli zingari No Oh Oh qualcosa di verde Vediamo La maschera Fai a butti Andiamo a giro Oh qua c'è brutta gente Janko Granetto Ah Non zumba dall'aria Oh corazza più forte Respiratore E saccheggiamo tutto Si può che smantellare Ma non capisco cosa serve Eh ti dà dei materiali da dare Praticamente gli accampamenti Per potenziare gli accampamenti E renderli più Resistenti Sono accanto a te WTF Già sparsi Val Sei tu zio Se sei tu Fai carta farmice Ciasso dai Lui l'ha fatto Che ho riscattato Non c'è nient'altro Ma questo qua Si è fatto uguale a me Solo che è più bianco Ah ah No pari Tu devi vedere la zona nera Gianco che figata che è Tu pratica la zona nera Sai come è fatta Come si struttura No Tu in pratica Sei in questo quartiere Qua dove c'è Tanta altra gente Assieme a te E il fatto che Tu tipo loot Ti trovi tipo Il P90 oro Per dirti Ah si si Per farti capire E poi te lo devi portare Te lo devi portare fuori Devi fare l'estrazione Il problema è che Quando tu fai l'estrazione Tutti lo sanno Lo sanno tutti Che stai Facendo l'estrazione Anche il punto E la gente fa di tutto Per rubarti Ucciderti E rubarti il loot Quindi tu magari Hai lootato tre ore Non hai trovato Hai trovato un mucchio di roba E la gente ti va Ovviamente però Rifurisci sul karma Cioè In quale sessione lì Tu c'hai il karma Quello è stordito Cerca di colpire Nei punti debole Tipo questi qua Ci hanno le casacche rosse Con i poteri Con gli esplosivi O i fumaggi Se hanno tipo Degli equipaggiamenti in più Poi ovviamente Più vai avanti Più li capisci Però questo qua Tipo gli ho sparato subito Nello zaino Aspetta aria Controllata dalle iene Aria controllata da iene Vedi questo qua È l'avamposto La gru crollante Questo è un signore Delle iene Ho chiamato Delle ati Allora ci ha visto Ma è pieno Qui è pieno Francio Granata Cazzo c'è un signore Viola Oh velut qua è bello Gianco Però C'è un problema Lo ucciso Poi Vedi sto raga Oh Gianco ce n'è uno Che sta arrivando da tre Dietro Sto già faiettando Con uno a cazzotti Già Ma come Cazzotti Rilevato ostile con corazza pesante Oh hai eliminato un cazzo LOL Rilevato ostile con corazza pesante No è qua è qua da me È oro Cerca se è un punto dubbio Aspetta che arrivo Mamma mia ne ho tantissimi qua io Mamma mia ce l'hai dietro quello oro È morto è morto è morto è morto Che partice l'ho dietro Era questo qua Non ha droppato un cazzo Eh ma è l'M4 super Sai che non so se posso adesso dropparlo Arrivano da Da sud Zio E lasciarla te Non ho ancora capito sta roba Come si fa a condividere Bravo Ma c'è uno spray di merda C'è un signore troppo grosso Tiragli le granate Ma bisogna sparare dietro a questo Ma quelli lì Zanco bisogna rompergli la corazza Bravo La minica non conosce Non conosce nessun tipo di direzione Ok eccola qua Vediamo cosa c'è Una doppietta ancora più forte Ma vaffanculo Ha mai dato una pistola forte Bene Qua mi ha dato della roba Bisogna dare anche la base operativa Gianchi è perché se no Oh ma ha dato un'arma blu Finemand Ma ha dato l'upgrade dell'arma che stavo usando prima Zio Io ho sbloccato anche la mimetica Oh che se l'ho imposto Sì è bello Infatti dovremmo fare di più Adesso andiamo a vedere a sta cassa Poi vediamo se c'è altro da Cos'era un leone quello Oh cazzo che figo sta arma Giacomo che c'è gente là No se c'è quello ti cucerbiato Sei matto Oddio no Ma Giacomo questa arma è fortissima Quella che avevo E ne arriva un altro Holy shit E' un po' meno precisa da lontano Però comunque E' poggers GG Aspetta che qua si può entrare La cassa shade Oh c'è uno C'è uno cattivissimo qua Ma è già morto Cazzo ma sembrava ciccionissimo Giacomo anche perché qua Ho fatto che comunque C'è una cassa shade Super coperta mi sa Super protetta Sto arrivando No bisogno di te Sto mescolando la zona Torna in cucina donna Oh dai Così impari stronzo Dio sei proprio mia moglie Dov'è la cassa? Eh a parte che là c'è un punto interrogativo La cassa scommia qua dentro Non puoi entrare da lì Ci abbiamo un posto stile vicino Mi ha detto il tipo Oh oh Brutta gente Oh merda C'è uno la sua Ah ah L'ho ucciso Struzzo Ma non posso alzare la visuale Con le granate Come cazzo Più di così non fa No Ho già Occhi copriti bene Perché qua so cattivi Vabbè si si calano sti stupidi Ok Ma si è cadato in testa Oh Un drop giallo Una chiave Ah la chiave per la cassa È vero è vero è vero è vero E qua la cassa Giaco vedi Oh c'è un altro Dice che la zona è trattiva No la bombola Oh bastardo Oh Un bel torno Una fondina Che merda Ok Ma sicuri che la cassa sia questa Perché mi dice che è sopra la cassa Quindi si può ancora salire Ah Vedi qui là c'è l'avamposto Guarda C'è un cervo Che carino Ciao amore Non lo so Ecco la cassa Non mi sembra molto interessato a Pai usa la chiave Eh scome ci da una bella roba fra Non mi ha dato niente Non mi c'è una cassa di avist Ah sai che cosa dobbiamo fare Bisogna prenderne quattro Di cassa e shade Ti sblocco tipo Sì Infatti non mi ha dato Non mi ha segnato uno su quattro Vediamo adesso Se andiamo ci arriviamo a un posto Mi ha sbloccato No Sto vector Io mi sono segnato l'avamposto Ma chi gli dà l'ordine di modificare le armi Allora questa la voglio usare Stai zitto Col pompa Che decido io Ok Ma se lo uccido sto coso No non uccidere il cervo Pavorino Dopo sto van posto Andiamo alla casa bianca Che ci sblocchiamo La seconda unità Ma dove sei passato? Tu io sono intanto L'edificio Anche io Vai dritto Mettiti il segnalino Sulla posto Sì Tartuffone maialone Dice Gianco orgoglio sardo Si sviluppa in verticale Si verticalizza sto coso Bene Io lancio il coso No 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 Non lancio niente Perché se no li attiro E non so dove sono Dove sono Mi disegna qua Chiamo alleati vicini No frate Si accorgono di noi No È finita Come faccio a salire qua Oh cazzo Ci sono cattivi Madonna C'è stato uno con la minigam Un ferocito come un drago di comodo Ma non ci conveniva scenderti sotto Noi sono tutti su Io gli tiro Tutte le granate che c'ho Eh già Io sono un po' in difficoltà No Mi ha rimbalzato la granata Ah Merda Questo è giallo Ci fuggi Ok Non ho più corazza Ricarico Io sono qua Giacco Io sono in mezzo Al quok Sto arrivando Arrampicati signori E poi mi romperà il cazzo Dopo lo so Mettiti una minigam Che ti copro Rilevato stile Con corazza pesante Oh oh Rilevato stile Oddio Esco da qua No è finita È finita Là c'è Come vero Giacco No Cazzo ma proprio ucciso Agente ucciso Cazzo l'ho quasi ucciso Quel bastardo Vai banco Ma ti posso rianimare Sì certo Siccome puoi anche venire Sì è scappato C'è un HP Non ti ha visto Fra non ti ha visto Easy 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 Ok Facco c'ero Bastardo Eliminateli Sei cavo Sono arrivati i fenomeni Ma sono arrivati Quando è finito tutto Rilevati No no Stanno arrivando altri Gianco Ci penso io Ce l'ho Dove sono Eccoli Ovviamente tolgo la mira Vengo fuori Cazzo quanti Senz'altro Mamma mia Sbam 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 Ah sì sì Capone mica È già morto Morti Il video finisce qua Io avevo intenzione anche di mettere un po' l'inizio del gioco Ma sinceramente non mandava di mettere filmati Volevo solamente mettere gameplay Quindi credo che vada bene così Credo che vada bene così anche voi Vi ho fatto vedere un po' gli avamposti Un po' com'è il rifugio Un po' com'è la mappa Un po' com'è il farming Un po' com'è il loot Quindi credo che vi ho fatto vedere il più possibile Questi pochi minuti di gameplay Fatemi sapere con me Mi piace un bel commento ragazzi Cosa ne pensate Un salutone qui da Gabo di Square E tutto Bella raga